Signori bentrovati, come promesso sono di nuovo qui in compagnia dei nostri amici altoparlanti Philips. Davanti a me, quasi attorno a me, una mezza dozzina di quello che confidenzialmente, ma anche non confidenzialmente perché a un certo punto è diventata anche una denominazione commerciale, il Philips Bombardon alias AD1255-V8. Ora, lungi da me da spacciarvi questo altoparlante come il miglior altoparlante della storia, intendiamoci, è sicuramente e giustamente famoso per molte soluzioni tecniche adottate e anche per il suo suono, peraltro, ma insomma non fraintendiamo il significato di questo video, non intende essere né una celebrazione né un'esaltazione a priori di un altoparlante che, ripeto, pur buono e lungi dall'essere il migliore della storia. Diciamo che i suoi pregi sono molto ben distribuiti sul lato tecnico e sul lato dei risultati. Intanto quello che sicuramente invece bisogna notare è che questo altoparlante è molto diverso dai fratelli e i cugini della stessa epoca e anche posteriori che sono poi stati creati. È una sorta di capitolo a sé della storia della produzione degli altoparlanti che ingloba una serie di soluzioni che sono nate e morte con lui e, come vedremo, a volte risorte a distanza di decenni e spacciate come novità della giornata. Ecco, in realtà appunto siamo arrivati, come al solito, in ritardo di qualche decennio sul genio e sull'intraprendenza degli ingegneri e dei progettisti Philips che hanno voluto, in questo caso, sperimentare quanto di più esotico ci fosse a disposizione per la produzione dei trasduttori alla fine degli anni sessanta. Questi altoparlanti sono rimasti in produzione sicuramente fino al 69-70 per poi andare progressivamente scomparendo negli anni successivi soppiantati da modelli più semplici, sicuramente meno costosi da produrre, innanzitutto privi del gruppo magnetico inalnico e poi anche comunque non più dotati delle soluzioni innovative che erano state studiate per questo altoparlante. Quindi è rimasto una sorta di canto del cigno della produzione Philips, magari non necessariamente parliamo della massima qualità, della massima espressione, ma sicuramente di un apice tecnico nello sviluppo dei trasduttori che non è mai più stato cercato forse, o comunque diciamo che sono state poi praticate altre soluzioni e non più queste. Andiamo per ordine. Qualche dettaglio tecnico sul bombardon. Allora l'altoparlante da 30 centimetri, magneto inalnico, cestello in lamiera stampata, dopo lo vedremo nel dettaglio quando analizzeremo alcuni particolari costruttivi. Tenuta in potenza fenomenale ma abbastanza tipica per l'epoca e per il tipo di altoparlante di 20 watt. 20 watt è la potenza elettrica sopportabile fisicamente dall'altoparlante in aria libera. In realtà caricato opportunamente riesce a reggere circa una cinquantina di watt, ma io ci andrei veramente molto attento a mettere 150 watt continui in questo altoparlante. A parte che si fa un mucchio di casino, ma poi si rischierebbe davvero di fare un vero e proprio disastro. Il fatto che l'utilizzo del carico acustico varia in maniera così consistente la potenza applicabile ci dice qualcosa riguardo del fatto che probabilmente questa potenza applicabile massima è limitata dall'escursione del cono, che in questo tipo di altoparlante è molto ben definita e non può essere sorpassata a meno di non distruggere il cono stesso, distruggere la membrana. In ogni caso questo signore ha una corsa dell'equipaggio mobile di 8 mm che tutto sommato non è disprezzabile vista anche la discreta efficienza che presenta. Come in tutti gli altoparlanti dell'epoca non abbiamo delle dichiarazioni di efficienza compatibili con i nostri standard, perché i grafici come ho già ricordato venivano generati utilizzando un segnale di 50 mW contro i 1000 mW che si utilizzano al giorno d'oggi, per cui la lettura di efficienza ne risulta assolutamente falsata. Sarà interessante prendere uno di questi signori e fargli un set di misure per ricavare i parametri di Thiele Small che ai tempi proprio erano completamente trascurati, non venivano minimamente menzionati. Chissà perché no? Era il 69. A titolo di curiosità e magari per poter pensare a un carico acustico dedicato a loro potrebbe essere interessante e anzi sarà interessante portarli in laboratorio e fare tutte le misure del caso, compresa una misura di efficienza, compresa una curva di impedenza, parametri eccetera, ma questo verrà in seguito. Per adesso rimaniamo al 1969 e ai nostri 50 mW che evidentemente erano più che sufficienti per far funzionare questi altoparlanti. A questo punto mi ricordo di Nelson Pess che parla dell'importanza del primo watt e alla luce di questi dati anche questo primo watt sembra un'esagerazione, un totale eccesso quando i primi 50 mW evidentemente sono quelli importanti, ma si sa i tempi passano e cambiano le misure. Diamo un'occhiata ai grafici di risposta. Il nostro fidato catalogo Philips del 1969 ce ne riporta un paio, uno del woofer da solo e uno del woofer accompagnato da due midrange, cito testualmente, 5x7 pollici in versione M4 quindi con il magnete grosso, attenzione, per la questione dei magneti degli altoparlanti Philips vi rimando al video scorso. Cerchiamo di capire qualcosa anche da questi grafici che ripeto sono stati fatti a 50 mW. La prima parte della curva dai 50 Hz circa fino verso il KHz è decisamente piatta nel primo grafico. Nel secondo grafico invece vediamo che il woofer misurato da solo presenta un innalzamento dell'efficienza a partire addirittura dai 300-400 Hz per arrivare a un picco appena sopra i 1000 Hz attorno ai 1500. Questo ci può dire già qualche cosa. Intanto che il cono evidentemente molto rigido presenta proprio un rinforzo verso le frequenze più alte. La seconda cosa che possiamo notare è che probabilmente il primo grafico è stato fatto o con un crossover che ha sagomato opportunamente l'uscita del woofer ad alte frequenze o boh forse hanno trascurato perché vedo una strana piattezza nella zona critica proprio fra i 400-400 e i 1000 Hz dove evidentemente inizia l'emissione degli altoparlanti della banda superiore. Questo però non è particolarmente preoccupante perché sempre dal secondo grafico possiamo vedere che i segni di break up quelli brutti arrivano ben più in alto ecco a parte il picco di risonanza 1500 poi c'è tutta la schifezza che vediamo in questo grafico a partire da 2 kg tutto a picchi e buchi. Lì evidentemente io quell'altoparlante non ce lo userei proprio. Sempre ricordando lo scorso video volendo utilizzare magari un medio alto a banda larga come il 9710 di cui abbiamo parlato la frequenza di taglio potrebbe essere opportunamente bassa e quindi effettivamente tutta la zona meno bella dell'emissione potrebbe essere tranquillamente lasciata da parte. Vedremo poi che cosa ci dice Philips stessa per gli accoppiamenti. Certo è che la parte interessante della manda passante di quest'altoparlante è veramente interessante e sorprendentemente piatta. Sono curioso di vedere se nelle misure attuali otterremo un risultato simile o salteranno fuori delle novità. Qui è veramente molto bello. Un'altra cosa strana che magari avrete notato di questi grafici è che la risposta del sistema completo è stesa fino a circa 40 Hz mentre quella del woofer da solo arriva a 50 Hz. Avendo una frequenza di risonanza di 29 Hz in aria libera la cosa è abbastanza ragionevole. Questo scarto di 10 Hz potrebbe essere dovuto a questioni legate alla misura o al carico utilizzato. Non mi preoccuperei più di tanto in questa sede di questi dettagli. Ci divertiremo a riguardo più avanti. Quello che mi lascia veramente stupito è la regolarità della risposta di questi altoparlanti di ormai più di 50 anni fa. Spulciando ancora nelle note applicative del nostro bel altoparlante vengono fuori tutta una serie di spunti veramente interessanti e soprattutto cosa che a me piace è da morire. Ci si rende conto di qual era il modo di ragionare, il modo di intendere la riproduzione 50 anni fa. Vi risparmio la morale sul cosa siamo diventati o tempora o mores eccetera eccetera. Però diciamo, ecco, limitiamoci a dire che era veramente molto interessante l'approccio di mezzo secolo fa. Intanto si specifica chiaramente la potenza necessaria, la potenza acustica necessaria per sonorizzare un ambiente che viene stimata in circa 4 millivatt per metro cubo dell'ambiente d'ascolto. Quindi un approccio veramente molto pragmatico per cui misuri l'ambiente d'ascolto, fa tot e tu sai che hai bisogno di una potenza acustica di quel tipo. Attenzione, potenza acustica, ok? Ricordiamoci che la potenza elettrica viene trasformata in potenza acustica dagli altoparlanti che sono dei trasduttori, trasformano una forma di energia in un'altra. potenza in un'altra. E l'efficienza, la resa di questi trasduttori è generalmente molto bassa, quindi si potrebbero fare in modo relativamente facile i conti di quanta potenza acustica sviluppi un diffusore. E qui sarebbe molto carino notare le mastodontiche differenze che ci sono fra un diffusore a bassa efficienza, uno ad alta efficienza, uno a tromba, eccetera. Lasciamo magari anche questo per un altro video, sarà carino da scoprire. Diciamo che per un salotto medio può servire una potenza di un watt acustico, ok? È quella che ci serve. È quella che ci serve, sempre secondo i sacri testi del 69, anche per sostenere la riproduzione di un organo o di una grande orchestra. E qui ci viene data un'altra nota, un altro suggerimento. E il suggerimento è questo. La frequenza più bassa, ragionevolmente riproducibile dal nostro sistema di altoparlanti, deve essere intorno ai 40-50 Hz. È vero, annotano gli ingegneri, che un pedale d'organo può arrivare a 16 Hz, al limite dell'udibile, eccetera, eccetera. Però è difficile che quella frequenza, date le lunghezze d'onda in gioco, venga correttamente riprodotta in una stanza normale. Ricordiamoci che il loro concetto di musica riprodotta era musica reale, di strumenti reali, registrata e riprodotta in modo realistico, ok? Quindi i calci nella pancia, i pugni nello stomaco, le sberle in faccia, i pestoni di piedi, i morsiconi ai garretti, dei subwoofer non erano presi in considerazione. Evidentemente un motivo lo avranno avuto, visto che loro cercavano la riproduzione realistica di musica reale. Quei parametri, o meglio, quella granola di botte di cui ho parlato prima, con la riproduzione realistica di musica reale non hanno niente a che fare e quindi niente a che fare col mio lavoro. Attenzione, limite di 40-50 Hz sulla frequenza minima non vuol dire arrivare a 40-50 Hz ed essere morti. Vuol dire riproduzione corretta dei 40-50 Hz, quindi 40-50 Hz con distorsioni estremamente basse, ok? Cosa vuol dire? Vuol dire non usiamo l'altoparlantino grosso così, facciamo fare un'escursione di 3 cm, abbiamo i 40 Hz con il 50% di distorsione armonica totale, in realtà io non senti i 50 Hz, sento le armoniche superiori, mi sembra di sentire chissà che. Ecco, questo è l'approccio moderno. No, 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 l'approccio di allora era 40-50 Hz di prodotti correttamente, abbasta distorsione. È sempre meglio essere chiari per non essere mai intesi. Queste cose, queste puntualizzazioni e questi chiarimenti dovete scusarmi ma mi vengono in mente lungo il discorso perché quello che effettivamente per me può essere abbastanza lapalissiano, non dico chiaro, per altri magari potrebbe essere una grossa novità. Per cui ho letto, ho letto in giro che per far riprodurre le basse frequenze agli altoparlanti piccoli basta fargli fare tanta escursione. Eh, sì, provateci e poi ne parliamo. Diciamo comunque che per questi requisiti questi altoparlanti erano stati calcolati per lavorare in una cassa oltretutto piuttosto piccola. Si parlava di una cassa chiusa di circa 40-45 litri. Volume che avrebbe portato la risonanza totale del sistema appunto ai circa 40-50 Hz totali dei 29 in aria libera per riuscire ad avere il risultato voluto e con distorsioni, dicevano, di circa il 3% alla minima frequenza. Risultato che tutto sommato non mi sembra malaccio. Adesso cerchiamo di guardare un po' da vicino questo cono e di scoprire quelli che sono stati effettivamente i suoi segreti e le sue innovazioni per il tempo, alcune delle quali sono veramente notevoli. Allora, prendiamo uno dei nostri altoparlanti e cominciamo dalla fine, cioè da dietro, dove ci sono già alcune cosine da vedere da cui ci sarebbe molto da imparare. Questo qui è il gruppo magnetico, ne abbiamo già parlato ma qui lo vediamo da vicino. Piastre polari estremamente spesse, un bel blocco di alnico per avere un'induzione magnetica di oltre 9000 gauss, se non ricordo male, nel traferro e, dicevo, piastra polare estremamente spessa per avere un traferro molto alto in cui una bobina molto corta si possa muovere rimanendo sempre in una situazione di campo magnetico estremamente omogeneo. Questa non è l'unica soluzione per arrivare a questo risultato, perché si potrebbe usare un traferro basso e una bobina molto lunga. Il risultato sarebbe grosso modo lo stesso sulla carta, ma fino a un certo punto. Perché? Perché la bobina sarebbe molto più pesante, sarebbe molto più lunga, avrebbe probabilmente una resistenza superiore e quindi si perderebbe decisamente in efficienza. Certo, si potrebbe utilizzare un gruppo magnetico molto più semplice, molto più piccolo, molto meno costoso, ma citando testualmente gli ingegneri Philips, la qualità costa. Così scrivono sul catalogo del 69 e questo è vero, è una soluzione senz'altro migliore, più costosa. Questo non era un altoparlante su cui fare dei compromessi, in realtà neanche gli altri. Andiamo un pochino oltre e guardiamo questo signore davanti. La prima cosa che possiamo vedere è la struttura della membrana. Questa membrana è fatta in quello che oggi chiameremo brevemente polistirolo espanso. Insomma, il polistirolo, quello a palline, quello che si usa per gli imballaggi, per noi oggi è un materiale quanto mai comune. Beh, per il 69 è già un po' meno, insomma. Sì, sì, per carità c'era evidentemente, ma non era esattamente all'ordine del giorno pensare di fare un cono di polistirolo espanso. Questo cono è spesso un centimetro e completo della bobina arriva a pesare circa 12 grammi. Confrontato con le membrane in carta dei woofer dell'epoca, complete della loro bobina, sospensione, eccetera, è una frazione del peso. Questo cosa ci dice? Ci dice che questo è un altoparlante già intrinsecamente molto efficiente. Dimentichiamoci un attimo la questione dei dB per un watt a un metro, ok? Dico solo, se io ho un motore molto potente che deve far muovere un equipaggio mobile estremamente leggero, è ovvio che avrò possibilità di accelerazione, ok? Chiamiamola così, estremamente alte. Quindi il mio altoparlante andrà molto facilmente dietro alle variazioni di corrente che io faccio passare nella bobina, quindi dietro alle variazioni del mio segnale, quindi mi farà sentire tutti i dettagli della mia musica senza mangiarseli per la strada come altoparlanti fatti in un altro modo. Perché c'è la scuola degli altoparlanti con magneti piccoli e bobine pesanti per avere risonanze basse, eh d'accordo, però quelli non si muovono. Un'altra caratteristica di questa membrana in polistirolo è di essere estremamente rigida, ricordiamoci che è spessa un centimetro. Quindi rispetto a una membrana in carta dell'epoca, tutti i fenomeni di break up, di distorsione legati al funzionamento fuori dalla modalità pistone di questo altoparlante sono spostati molto fuori dal range di funzionamento. Per riuscire ad avere una frequenza di risonanza così bassa con un equipaggio mobile così leggero la conseguenza è di dover avere delle sospensioni, sospensione esterna e centratore, molto cedevoli. Se voi guardate l'altoparlante da questa parte la sospensione esterna proprio non la vedete. Il perché è molto semplice è perché la sospensione è qua dietro. È montata sul retro del cono a due terzi della distanza fra il bordo del cono, forse un po' meno, insomma comunque ad alcuni centimetri dal bordo del cono verso l'interno. Si vede, lo sto spostando con le dita, è estremamente morbida. Il centratore, lo spider invece, è uno spider abbastanza tradizionale in tela, direi che non c'è nulla da rilevare a riguardo, se non che anche questo è molto cedevole per riuscire ad avere le caratteristiche volute. Tutta questa cedevolezza chiaramente, come dicevo prima, non aiuta in termini di tenuta in potenza, perché se io gli applico delle correnti molto alte, il cono avrà di conseguenza delle escursioni molto alte. Escursioni che, come dicevo, rischiano in questo caso di spaccare tutto. Perché? Perché se in un'altoparlante tradizionale, dotato in una sospensione tradizionale, il fondo corsa arriva molto dolcemente, in questo caso il fondo corsa è limitato in maniera netta da questa flangia che circonda il cono. Questa flangia ha un bordo piegato verso l'interno, contro cui il cono, se fa un'escursione eccessiva, sbatte e si fracassa. Soluzione non certo di compromesso, anche se l'escursione dell'altoparlante rispetto all'escursione massima permessa meccanicamente è ben diversa, nel senso c'è una notevole abbondanza, bisogna proprio fare delle porcherie per riuscire a sbattere la fondo corsa, però ecco, questo succede e può succedere. Con le potenze applicate di cui abbiamo parlato prima non ci sono grossi problemi, però questa cosa io in altri altoparlanti non l'ho mai più vista. Il cono lascia un leggero spazio, direi di circa un millimetro, fra il suo bordo e la flangia laterale. E fin qui ci siamo. La flangia laterale poi presenta a un certo punto un allargamento che crea una sorta di camera d'aria tutto attorno al cono, camera d'aria che compresa fra la porzione più esterna del cono, la flangia, il bordo e la sospensione interna che chiude sull'ultimo lato. Ora, quando in movimenti del cono e della sospensione sono regolari e privi di distorsioni, tutto funziona bene perché il volume di quella camera si mantiene grosso modo costante, per cui di fatto non c'è fuoriuscita d'aria da quel famoso millimetro di spazio che c'è fra il cono e la flangia. Nel momento in cui la sospensione cominciasse, per sovrapilotaggio o per qualche altro motivo, per frequenze di risonanza strane, nel momento in cui la sospensione cominciasse a muoversi in maniera non armonica, quindi a generare delle onde, ok, a deformarsi in senso radiale, ecco che il volume di quella camera attorno al cono viene modificato e quindi si letteralmente pompa aria fra l'interno e l'esterno della camera. La resistenza di quest'aria che è costretta a passare da una feritoia molto stretta garantisce un fortissimo smorzamento a tutti quei movimenti che non sono armonici col segnale, cioè quando il sistema tenta di distorcere, ecco che questa massa d'aria interviene in aiuto e smorza tutto quello che non funziona bene, garantendo un movimento del cono, nuovamente, molto lineare e con distorsioni estremamente basse e chiamiamoli dei cretini. L'avete mai più visto un sistema del genere? Io no, è molto 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 interessante e mi viene da pensare a quanta carta e a quanti test siano serviti per arrivare all'ottimizzazione di questo sistema, dei volumi interni e di tutto il resto. Oppure magari tutto è successo per pura fortuna e si sono accorti che la cosa funzionava, non ci credo fino in fondo, però a volte succede anche questo, non mi è dato sapere quale sia stato l'iter di sviluppo di questa chicca ingegneristica. Questi altoparlanti erano utilizzati in una serie di diffusori acustici commerciali fatti da Philips come sistemi completi all'epoca, ma alla Philips erano molto carini e quindi in appendice al catalogo fornivano anche dei suggerimenti per costruire un diffusore completo basato sul Bombardon e, guarda caso, sul 9710. Questo era un diffusore relativamente compatto, ci danno proprio tutte le specifiche del mobile, è un box di circa 50 litri in totale. Le dimensioni sono circa 36 di larghezza del frontale, 230 di profondità, quindi molto poco profondo e 65 centimetri di altezza, quindi una cosina così e di profondità estremamente ridotta. In effetti ai tempi diffusori sviluppati in profondità non mi risulta che ce ne fossero, probabilmente non erano molto graditi e quindi si tendeva magari di più a soluzioni di questo tipo. La cosa interessante, guardando il progetto di questo diffusore, è il sistema di caricamento dei bassi, che è tutt'altro che banale. Niente di fantascientifico, ripeto, ma è curioso come ai tempi si vedessero molte soluzioni diverse per affrontare il problema dei bassi, mentre ad oggi ci sia una generalizzata, estrema, insopportabile banalità nell'affrontare la questione. Ebbene, il nostro cabinet è una cassa chiusa, quindi quella che potrebbe sembrare una semplice sospensione pneumatica e invece non lo è, perché vediamo che a circa metà altezza, non proprio, a 36 centimetri e mezzo dal fondo, perché è quotato anche questo, viene sistemata una basetta traforata che da specifiche deve essere ricoperta da due strati di flanella. Che cos'è? Beh, è evidentemente una resistenza acustica per separare il volume immediatamente dietro il woofer dal resto del volume della cassa, dove viene usato, secondo specifiche, poco assorbente. Visti i tempi, poteva essere lana o cose del genere, guarda a caso. Ci si raccomanda chiaramente di chiudere il retro dell'altoparlante dei medio-alti per evitare che, anche qui cito testualmente, influisca sulla corretta riproduzione dei bassi. A me istintivamente sarebbe venuto da preoccuparmi per la corretta riproduzione dei medio-alti con la membrana dell'altoparlante dei medio-alti caricata da quella dei bassi, ma insomma ecco la cosa evidentemente reciproca, e poi si chiude con lo schema del filtro crossover. Filtro crossover che è estremamente semplice, come piace a me, ed è giocato molto bene sui valori per linearizzare il più possibile la curva di risposta. Mentre registriamo è anche iniziato un bel temporale, per cui in qualche modo cerchiamo di rimuovere il rumore della pioggia. Se invece lo sentite, vabbè, prendetelo come così, un aiutino rilassante a fine video. La frequenza di taglio del crossover è settata a 450 Hz. Vi ricordate, dall'analisi dei grafici a inizio video, era proprio la zona, lo sweet spot, entro cui far lavorare al meglio il woofer. Quindi una frequenza di taglio bassa per un due vie, ma abbastanza canonica per un incrocio tra woofer e medio. e visto che parliamo di un medio o di un full range da oltre 20 cm, ebbè, ci sta incrociare così basso per poter lasciare tutta la gamma media e medio alta emessa dallo stesso altoparlante. Il sistema dovrebbe arrivare grosso modo attorno ai 18 kHz sulla carta, poi magari lo misureremo, probabilmente per gli appetiti odierni un tuiterino di rinforzo ci potrebbe anche stare, ma io credo che, conoscendo i miei polli, quello che viene riprodotto da questa cassa raramente lo si possa sentire riprodotto meglio con maggiore naturalezza o comunque solo da sistemi estremamente ricercati e molto diversi. Eh, però, vabbè, le previsioni di oggi, diluvio universale alle 5. Ok, sfidando le intemperie che stanno imperversando fuori, in qualche modo siamo riusciti ad arrivare alla fine di questo video, sperando di non essere allagati entro breve, ma ecco, per il momento se non altro ci siamo. Io vi rimando a questo punto al prossimo video dove faremo le misure del bombardon e cercheremo di capire se si possa adattare a uno di quei carichi acustici che a me piacciono tanto. Carichi acustici che sicuramente sono molto sacrificati in termini di massima potenza applicabile, ma in termini di musicalità di solito rendono molto bene. Quindi sotto questa terribile grandinata io vi saluto e vi rimando al prossimo video. Grazie.